C'era un periodo che andava moltissimo al cinema con due amici che non so perché avevano un'altra sera per tutti i cinema di room, un miracolo per cui noi entravamo, uscivamo e vedevamo di tutto io mi ricordo delle pagine dei giornali del pomeriggio e della sera c'erano dei giorni che avevamo visto tutti i film cioè è stata una bellissima scuola poi non mi ricordo come e perché senti parlare del centro sperimentale e nello stesso tempo però volevo anche lavorare nel cinema per cui ci fu una riunione di famiglia con personaggi importanti che allora erano amici molto di noi tutti e questo personaggio mi disse era Nicola De Piro che era addirittura dello spettacolo mi pare dice guarda tu hai due strade possibili o vai alla scuola di cinema o fai il terzo e il quarto aiuto tra l'altro ti piace il mare stanno cominciando un film a Gaeta ti posso presentare qualcuno e deciditi eri io per fortuna di Dio scelsi il centro e tra l'altro era anche una cosa importante e strano che abbia deciso perché in realtà sia io che mia madre come famiglia avevamo anche bisogno di soldi per lo meno per sopravvivere dopo la guerra la casa di Ferrari era andata per aria insomma mio padre era morto quindi eravamo abbastanza diciamo in difficoltà per cui a un certo punto vinsi questa borsa di studio che era di 30.000 lire non era poco perché era 1.000 lire al giorno più lì si mangiava nei primi tempi io riuscivo anche a mangiare due volte perché passavo da un tavolino a un altro poi mi scoprirono e cominciò il centro che veniva però in un momento particolarissimo mi scusi il 1950 era esattamente il 50 e tra parentesi io tra le cose che avevo anche immaginato cosa che mi fa molto piacere l'aver fatto perché mi ha lasciato una bellissima conoscenza di Roma nel 48-49 finito il liceo avevo fatto dei corsi molto belli con archeologi storici dell'arte in preparazione dell'anno santo per fare la guida dell'anno santo e avevo studiato come lingua estera lo spagnolo tutte cose che mi sono state molto utili quando sono arrivato al centro c'era una strada atmosfera perché il direttore del centro sperimentale non vorrei sbagliarmi mi pare che fosse Pasinetti aveva deciso di sedurre una giovane fanciulla lieva se l'era portata in un prato dietro gli studi e lì era rimasto secco poverello e questo credo che aveva creato così no credo si l'aveva suscitato allora c'era poi c'era un sempre più potente regime democristiano nel senso di vicinanza molto stretta delle regole chiamiamole tra virgolette morali per cui venne messo un signore che si chiamava il Cavalier Raggi molto simpatico molto gentile ma che era una specie di censure cioè se parlavi con una delle ragazze veniva subito poi vise un tavolo di ping pong pensando che fosse col ping pong insomma era un periodo molto particolare e con una rarefazione degli insegnanti avevamo un professor Mai che era però un teorico un narratore simpatico gentilissimo insomma era molto scolastica come cosa di buono c'erano gli studi di buono c'era che si filmava via via prima due inquadrature poi una piccola scena poi dopo una scena anche sonora però c'era questa sponsea la cappella, la messa perché io sono cristiano e cattolico ma non è che sono contro però lì era proprio veramente forzata la cosa e poi questa non sarà come posso dire la spagnola della santa riforma la sacra riforma va bene a parte questo però si lavorava abbastanza bene e soprattutto siccome appunto non mancava l'insegnante era morto mentre eseguiva un lavoro non del tutto cinematografico apparentato ma non proprio diretto e venivamo e questa è stata un'altra grande fortuna mi dispiace per il povero Pasinetti ma per noi venivamo andati e attraversavamo la strada andavamo c'era città e andavamo mal sopportati o sono sopportati appena seguivamo dei film Blasetti tanti tanti film si stava a turno 8-10 giorni poi cambiava il turno e questo mi mise devo dire molto in contatto con il cinema reale più che quello che non si faceva al centro poi venne nel frattempo un po' il capo in testa della scuola era diventato Blasetti non credo che ci fosse una nomina ufficiale ma insomma quello che veniva più spesso però abbiamo avuto anche Chaplin un giorno che era venuto a Roma è stato molto entusiasmante sembrava imbalsamato comunque era Chaplin e poi tutti i registi che lavoravano passavano da lì quella insomma voglio dire che quella mancanza di un insegnamento di regia che secondo me tra l'altro è una cosa che non si può insegnare e non si può apprendere scolasticamente era sopporto da questi incontri con questi personaggi poi venne il secondo anno la preparazione del famoso saggio finale e lì c'è stata un po' una mia svolta nel senso che io ero molto per un cinema divertente assurdo paradossale e preparare una storiella che è molto banale ma che girata bene potrebbe essere divertente di un gruppo di pompieri vigili del fuoco dove non succedeva mai nulla molto sonnacchiosi che finalmente suonavano allarme cercavano si arrabbattavano nel prepararsi a correre dove c'era un incendio e poi alla fine salvavano un gatto tutto questo però era come posso dire glorificato arricchito da fatto che il capo dei pompieri doveva essere Blasetti però quando Blasetti disse questa cosa fece una risata amara però non gli piaceva essere il capo dei pompieri per cui mi ha detto senti ma poi sai vabbè poi io non potrei perché devo fare un film e allora ebbe un'altra occasione bellissima che cominciava il colore e la Ferrania che veniva lì a farci delle offerte forse perché ero figlio della pittrice non so per quale motivo mi disse no vuoi fare tu vuoi fare il saggio a colori e fece i passeggiati di buon mattino allora lì fu un po' anche un po' una svolta in quello che era la prima idea è stata un po' più un vero e proprio saggio e si girò nei vari quartieri di Roma utilizzando vari pochi attori del centro sperimentale molta gente amici presi dalla vita comune e si fece quel saggio che so che ancora qualche volta gira e quindi forse è la forza di una Ferrania Colo che aveva nove asa di sensibilità si girava un pieno sole come se fosse notte comunque fu un'esperienza molto bella e poi c'erano i compagni di corto c'era Briano Castelbarco molto nobile molto snob molto chic che poi fece dei film che credo rovinò la famiglia cioè vendeva delle terre e faceva i film c'era uno straniero che mi fa molto piacere sapere che è ancora sulla piazza Fernando Birri che veniva dall'Argentina era un poeta era andato in Sicilia aveva riportato una piccola telecamera delle immagini stranissime e Riccardo Passaglia ecco con Passaglia abbiamo fatto molta amicizia perché anche Passaglia era sul piano così come posso dire poetico fantastico non realistico e poi aveva seduto molto mia madre come simpatia e accettava molto volentieri l'invito a cena a casa e con Riccardo abbiamo fatto molta molta amicizia c'era anche Modugno Modugno era una cosa un po' a parte modugno era puntava sempre a tutta la parte femminile della scuola che fossero attrici fossero allievi studentesse di regia non interessava lui aveva proprio uno scopo preciso però Modugno ci diede un grande vantaggio che fummo tutti cioè due di noi fummo invitati alla mostra di Venezia ospiti all'hotel De Ben cosa alla grande allora era tanto alla grande che abbiamo detto agli altri venite ci organizziamo con le scene in camera e quindi eravamo 8-10 e tra i quali Modugno Modugno come sapete benissimo cantava molto bene sin da allora e eravamo continuamente invitati a tutte le feste che si avvenivano oltre che alle proiezioni che erano ovviamente molto più noiose a tutte le feste che avvenivano a Lido perché Modugno cantava noi ci facevamo da contorno credo almeno per quanto è ricordato certamente non cantando insomma sono stati due anni molto 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 belli la Giuda Lazzarini me la ricordo molto molto signorina molto piccolo borghese romana sì poi Anna Gruber la ripeto ancora che era stata una ragazza che poi ha fatto delle cose molto belle a Trieste le ha voluto molto bene molto brava mentre questi giorni proprio giorni voglio sottolineare del centro sferimentale me li ricordo benissimo perché tra l'altro avevo partecipato a un concorso per un soggetto non come allievo con un nome che si doveva mettere con un nome fasullo e vinsi e vinsi e mi comprava una lambretta per cui andavo al centro sferimentale con questa lambretta insomma voglio dire sono anni che vi ricordo benissimo dopo tutto è un po' confuso nel senso che partì poco dopo insomma praticamente pochi mesi dopo a Natale se il corso finiva a giugno o a luglio comprese le riprese e il montaggio a Natale io partì con la spedizione di Sesto Continente dove anche lì è una storia un po' curiosa raccontarla adesso cioè praticamente era un gruppo di pazzi scatenati che voleva andare a pesca però tinse questa sì no 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 poi anche loro però avevano ottenuto la cosa di prima spedizione scientifica perché avevamo effettivamente un bravissimo biologo marino Francesco Baschieri che è vissuto fino a pochi anni fa Francesco Baschieri che insieme a un assistente che invece ancora vivo è una biologa inglese pagò per partecipare a questa spedizione io non pagai ma non ve nemmeno nemmeno pagato voglio dire con l'incarico di filmare lì intervenne un grosso personaggio che ancora vivo e che io sento spesso al quale voglio molto molto bene che è il principe Agliata che aveva fatto un paio di film molto belli ma credo molto catastrofici dal punto di vista economico che finanziò questo film per cui avevamo due macchine Kodak molto belle sempre 16 mm però professionali abbiamo avuto in partenza un come posso dire un metraggio di pellicole limitate qua posso aprire una parentesi se può divertire che in realtà era stato chiamato anche un regista inizialmente un italo svizzero il quale raccontava delle balle sensazionali io stavo zitto che sembrava forse gelosia ma che si buttava con la macchina da ripresa col pare cadute cadeva nel lago e allora faceva delle riprese subacquee poi usciva poi altre cose e quando arrivamo in Mar Rosso scoprimmo prima di tutto che non sapeva neanche notare per dirigere un film di mare insomma era poco e poi sprecò tutta la pellicola nel girare scene di paesaggi di paesaggi marini cioè senza azione perché a un certo punto Vailati che era il capo spedizione e che era persona di cinema quindi poi mirava il film lui lo mandò a casa perché minacciò qualcuno di noi con la pistola non mi ricordo bene perché noi ci separavamo sempre da quel gruppo e cominciò il film vero e proprio Vailati tornò in Italia a cercare pellicola perché l'avevamo quasi finita per me fu una grossa esperienza e non solo per me con i miei due che erano con me perché abbiamo avuto così delle settimane perché questo regista prima Svizzero filmava le coste le spiagge in acqua non c'entrava mai non sapeva notare e noi invece ci siamo buttati in mare con dei bravi maestri e Masino Manunzi aveva fatto sto mozzatore nella guerra e quindi era un grosso esperto con degli respiratori ossigeno e infatti vorrei ricordare il miracolo che nessuno di noi morì in quel periodo con gli respiratori ossigeno sono morti in tanti perché basava un piccolissimo sbaglio per respirare aria che era senza ossigeno per dei vicensi e quindi siamo stati quasi un anno siamo tornati il materiale era molto bello il principale di asta poverino era sparito non so quale fallimento quale cosa ci fosse stato era però intervenuta la società milanese e finanziarono una ripartenza allora tutta cinematografica per il Mar Rosso torniamo giù solamente in tre con vai lati e siamo stati praticamente mi pare 40 giorni nelle zone belle cioè dove filmare perché nella volta nel viaggio precedente le zone belle erano quelle che sceglievano i cacciatori per pescare e quindi si finì il film si montò detto tutto questo io non ero regista no io non ero ma ero regista cioè non ero stato nominato mi piacciono queste domande mi fate ricordare delle cose che poi avevo dimenticato e quindi cominciai a lavorare a mettere a posto il materiale fece una scaletta venne approvata alla Fono Roma che era un bello stabilimento ebbe una uveola e si presentò un fior di montatore che era Mario Serandrei Mario Serandrei che era quello che montava i sconti poi montò Fellini sono tutti grandi era appassionato dei viaggi lui non viaggiava non guidava neanche la macchina per cui pigliava le grandi taxi a quel punto io che avevo compri un vestito di guerra una Opel con quello che poco che avevo guadagnato alla fine perché il secondo viaggio furono pagati il primo no il secondo era più professionale e lo andavo a prendere lo portavo e seguivo i suoi montaggi lui faceva tre film in un giorno uno alla mattina uno subito dopo colazione e uno alla sera dando diciamo tre ore tre ore e mezza a ciascuno l'ultimo era il mio ma io mi vedevo anche gli altri due e mi interessa moltissimo il montaggio è sempre la parte del cinema che mi ha più appassionato perché ha somigliato a scrivere per quello e quindi tornai e a un certo momento venne su una bella ragazza che io un po' corteggiavo che era la telefonista della Fonoruma tutta eccitata l'hanno chiamato il suo film è invitato a Venezia ma che sa di ci si hanno detto Sesto Contidente di Folco 15 uno dei quattro selezionati a Venezia e lì cominciò tutto l'inizio professionale diciamo poi non è stato mai professionale dopo ed era già un po' professionale prima non lo so io adesso certamente quello è stato un momento emozionante e poi praticamente finalmente qualcuno diceva che era regista certamente sì e secondo me ha seguito proprio il fatto che la scuola fosse fallimentare in quel momento no lo dico sul serio perché quell'esperienza facevamo anche una scuola perché c'era il professor Mai c'era quindi poi ci facevano dei soggetti si scrivevano piccoli, brevi si discutevano però diciamo le ore erano tante al centro e il fatto che diciamo una metà di quelle ore fosse immersi nel lavoro reale è stata una grande il centro era il centro era molto democristiano ma un democristiano vecchi tempi proprio chiuso assistiante da questo punto di vista si ma Andriotti confronta il rivoluzionario si si poi appunto avevamo questo avvantaggio grande che avevamo la vita di quelli che di cinema la facevano sul serio e non con delle elucubrazioni intellettualoidi e poi c'erano la mattina da ripresa il sonoro cioè si imperava anche praticamente io ne avevo bisogno perché io venivo da un'autoproduzione fatta sempre con mezzi assolutamente non professionali vorrei dire dopo lavoristici no? molto buoni perché per esempio la l'Università di Roma aveva un centro cinematografico che aveva avuto dagli esercenti romani la possibilità di presentare un film di quelli di prima visione in quel periodo una domenica al mese si faceva al Metropolitan l'incasso che era basso rispetto al biglietto del cinema però era sempre un signore incasso perché il cinema si riempiva così noi avevamo poi ma il cinema non posso dire riporto all'ora però avevamo i soldi per fare uno o due quando io feci il filmetto mio alla fine di quel periodo nel cine club universitario un altro c'era anche un altro in corso adesso non mi ricordo di chi fosse quindi i soldi c'erano si affittava la macchina però insomma il centro sperimentale dicevano molti allora serve a niente non è vero non è vero il centro sperimentale se tu credi che entri e esci regista te lo puoi togliere dalla testa entri e vedi adesso io non so come sia adesso quindi quindi io parlo ma non credo mi auguro che non sia molto diverso nel senso che è una specie di grande polipo che ti avvolge però con molti tentacoli e molte tentazioni per esempio l'altra cosa molto importante che non so i ragazzi di oggi fino a che punto lo chiedo a voi che siete presenti fino a che punto abbiano fatto come facevamo noi sia nei cinematografi della capitale e sia nel teatro nella saletta del centro sperimentale la grande proprio la lo scorpacciata di film era basilare la quantità di film belli brutti medi grandi che si che potevamo andare anche il sabato se volevamo ci mettevamo d'accordo con quello che faceva il proiezionista mettevamo non so cento lire a testa e andavamo mettevamo qualche film della cineteca poi veniva Blasetti e faceva sempre i suoi film faceva venire dicendo questo è il più brutto che ho fatto però i titoli di testa sono molto belli Blasetti era un bravo maestro nella sua nella sua eroenza voglio raccontare l'ultima cosa con Blasetti quando si decise di di fare il il saggio finale come ho detto il primo in cui lui doveva essere protagonista lui amichevolmente e scherzosamente mi disse di cambiare idee in poche parole allora io preparerei il passeggiatore di buon mattino e presentare perché la cosa era molto formale tutti in classe tutti seduti qui dici presente vai là davvero i soggettini lui il soggetto era breve erano due pagine ovviamente e disse lo prese in mano e dice ecco esattamente quello che non si deve fare che non si deve fare allora io avevo vicino una che non sapevo chi era e che ho saputo dopo che era una sua o figlia o nipote credo forse la figlia forse la figlia ah si 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 che non ci fa a casa perché è completamente cretino e io sono ripresi i miei fogli ci vediamo fra dieci giorni io spudoratamente ribattei a macchina io un po' più largo esattamente la stessa storia e lui disse ecco cos'è la scuola si fa una pessima figura con una brutta idea la si riscrive e diventa magnifica era la stessa cioè Blasetti era questo capito però non gli volevi non solo non gli volevi male gli volevi proprio bene perché era sincero era quello che ci raccontò che aveva fatto il bagno a Rossia vicino a Mussolini che mutava vicino a Mussolini e uno di noi dice che gli ha detto noi ci siamo guardati e ci siamo capiti era fatto così grazie a tutti